Tutto da rifare per il canile comunale di Cremona. Il bando indetto per assegnare la gestione della struttura è stato annullato. Dopo varie vicissitudini a colpi di ricorsi legali, è stato verificato che l'unico partecipante, la clinica bresciana del dottor Massimo Perron, al momento della presentazione dell'offerta, non disponeva del canile sanitario, che invece figurava tra i requisiti richiesti. Dunque la palla attorno al comune, che ora dovrà decidere che cosa fare. L'ipotesi più plausibile è quella di indire un nuovo bando, con meno restrizioni, che permetterebbe di partecipare anche alla struttura di Calvatone, anch'essa sprovvista dell'area sanitaria, ma più volte visitata dall'assessore Alessia Manfredini perché è considerata un modello al quale ispirarsi.